Sale sul palco Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Autorità, relatori, illustri ospiti, giovani imprenditori, benvenuti al nostro 37esimo convegno di Capri. Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta, la verità è sempre illuminante, ci aiuta ad essere coraggiosi. Lo dice Valdo Moro e lo diciamo anche noi qui, oggi. La verità è che ci apprestiamo ad affrontare l'inverno e questa volta ci vorrà un coraggio da leoni per superarlo. Sono passati otto mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina, una guerra che ha riportato la storia, quella con la S maiuscola sul continente europeo. Per anni i popoli europei si sono dedicati alla crescita e allo sviluppo, quasi dimenticandosi che le guerre esistevano ancora. Quasi tutti, infatti, in questa sala sono stati così fortunati da non aver conosciuto altro che pace. Ma il costo delle materie prime, che azzera oggi i margini delle imprese e che minaccia di bloccare le produzioni, si era alzato ben prima della crisi ucraina. Una crisi dei prezzi, innescata dalla pandemia e dai continui lockdown che si sono succeduti, soprattutto in Cina. Una crisi acuita dalle speculazioni di mercato. La guerra, però, ha aumentato tutti quegli squilibri congiunturali e strutturali che già esistevano, colpendo diversamente le nazioni in base al loro grado di esposizione al conflitto. I prezzi di materie prime, energie e beni alimentari hanno toccato negli ultimi 18 mesi picchi senza precedenti. Inflazione in continua salita ha raggiunto un più 8,9% a settembre, valori che non si vedevano dagli anni Ottanta, dopo gli shock petroliferi. E, secondo la BCE, si attesterà al 5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 2024. Troppo alta, troppo a lungo, per non lasciare strascichi duraturi. Basterebbe solo questo per sostenere che abbiamo alle porte un inverno difficile, che potrebbe raffreddare non solo le nostre case, ma anche il nostro percorso di crescita e di recupero. Servono dunque nuove energie per far sì che questo non sia un tempo di crisi, ma un'epoca di trasformazione. Pensiamo ai cambiamenti climatici. Entro il 2050 saranno oltre 200 milioni le persone bisognose di assistenza umanitaria, anche a causa di mutati equilibri ambientali. Oppure alle sfide legate alle trasformazioni tecnologiche e all'iperconnettività digitale. Nel 2030 il numero di dispositivi connessi a livello mondiale potrebbe superare la cifra di 200 miliardi, 25 volte il numero degli abitanti della Terra. Guardiamo poi ai trend dei mercati globali, con la Cina, che dovrebbe diventare la più grande economia del mondo nel prossimo decennio, e l'India, che potrebbe superare l'Europa nei prossimi vent'anni. Insomma, per l'Italia sta suonando forte una sveglia che stiamo rimandando da anni, ma non si possono più chiedere ancora cinque minuti. Perché sono tanti i paesi che questa sveglia l'hanno sentita forte e chiara e che si sono attrezzati. L'Italia, invece, sembra essere caduta dal letto e ancora assonnata, si guarda intorno smarrita. Siamo onesti, le cause della fragilità italiana vengono da lontano. Gli effetti dei grandi cambiamenti in atto sono evidenti da molto, molto tempo. Possibile che nessuno li abbia visti arrivare? E ancora, la dipendenza energetica italiana ed europea con la Russia affonda le sue radici in scelte miopi e irresponsabili, vecchie di decenni. Confindustria lo aveva denunciato da tempo. E come definireste un imprenditore che affida la propria capacità produttiva ad un solo e unico fornitore? Uno che deve cambiare mestiere. E chi affiderebbe il destino energetico di una grande nazione industriale a un solo fornitore? Questa scelta sconsiderata si abbatte oggi su famiglie e imprese con un aumento del 1.406% dei prezzi del gas e del 13,4% di quelli alimentari. Beni per cui la domanda è difficile da comprimere senza innescare una recessione e senza far andare a gambe all'aria intere filiere industriali. Gli amici tedeschi sanno bene di cosa stiamo parlando. Stesso sbaglio, sì, ma diverso debito pubblico. Oggi la Germania ha ampi margini per sostenere imprese e cittadini. Un bazooka da 200 miliardi che scava un solco profondo di competitività tra l'industria tedesca e tutte le altre. Che dà l'ennesima picconata al principio di solidarietà europeo. Oggi l'energia, ieri i migranti, domani chissà. Una scelta apparentemente utile oggi, per chi le risorse ne ha, ma pericolosa nell'immediato futuro. E ora veniamo all'Italia. Dalla miopia energetica alla mancanza di investimenti strategici, civili e di difesa. Sono queste le scelte che ci hanno reso più fragili rispetto ai competitor e meno pronti ad affrontare i shock economici e geopolitici. Lasciando eternamente aperto il cantiere delle riforme. Attesi, agognate, sbandierate, promesse mai mantenute, fisco, concorrenza, catasto, scuola, pensioni, politiche attive del lavoro hanno subito negli anni un maquillage, più o meno incisivo, ma pur sempre un maquillage. Perché laddove gli interventi sono stati più energici e incisivi, ci ha poi pensato il governo successivo o la burocrazia bizantina a creare scalini, scaloni, scivoli, bonus, cavilli, zone franche e club protetti dalla concorrenza. Perché tutti gli animali sono uguali, ma qualche animale è più uguale degli altri, direbbe Giorgio Orwell. Alcune aziende nel tempo si sono adeguate a questo stato di corsa senza creare alcun valore aggiunto pretendendo di vivere erodendo le risorse pubbliche. E mentre la maggior parte degli imprenditori come quelli in questa sala mandano avanti con sacrificio le imprese creando benessere condiviso altri non rispettano le regole e danneggiano le imprese serie facendo concorrenza sleale e rovinando l'immagine di tutta la nostra categoria. Beh, anche per loro la sveglia è suonata. Con l'arrivo della pandemia il mondo ha subito uno shock durissimo. Ha pianto i propri morti, ha sofferto la crisi, l'economia si è fermata e abbiamo avuto tutti paura per il futuro. L'Europa ha reagito, è arrivato il Next Generation EU e così il nostro PNRR per attuarlo. Con i soldi però sono anche arrivate le condizioni per averli e le condizioni sono le riforme, quelle che Confindustria chiede ad almeno due decenni, sempre quelle. Tutto risolto? No. Per tre motivi, tutti di metodo. Uno, è possibile che in questo Paese si cambi solo sotto minaccia? Due, è possibile che non appena si abbassa la tensione inizi l'assalto alla diligenza dei conti pubblici? Tre, è possibile cambiare davvero senza abbandonare le polarizzazioni di idee e le rendite di posizione? No, non è possibile, almeno secondo noi. La corsa alle riforme è effettivamente partita e i fondi del PNRR iniziano ad arrivare. Eppure già si cominciano a vedere mille distingue sulle misure da adottare. Pensiamo ad esempio alla concorrenza. Ma l'Europa è stata chiara. Niente soldi senza riforme. Riforme, peraltro, a costo zero ma con un impatto fondamentale sulla crescita e la modernizzazione dell'Italia. Riforme che hanno un percorso lungo davanti con una programmazione fino al 2026 che non deve fermarsi. L'emergenza non diventi un alibi per non fare le cose. Ed è per questo che vogliamo ricordare al Parlamento appena eletto dopo una delle campagne elettorali forse la più anomala ma tra le più anomale della nostra storia repubblicana il carattere di questa nazione. Gli italiani hanno dimostrato di conoscere il sacrificio di saperlo accettare e compiere perché il sacrificio si può e si deve sopportare ma non in vano. Non possiamo permettere che la sofferenza della pandemia e delle crisi economiche siano avvenute per nulla. Che il dolore e l'incertezza vissuti passino senza lasciare traccia che nessuna lezione venga imparata. Su questo vigileremo e faremo sentire la nostra voce sempre. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro ai Presidenti di Camera e Senato appena eletti. Al nuovo Parlamento spetta un compito importante. Nel rispetto della dialettica politica confidiamo che ci sia una maggiore stabilità in grado di rispondere alle emergenze che attanagliano l'Italia e di tenere unito il Paese. Al nuovo Governo spetta il compito di contribuire a costruire un Paese più forte, più prospero e più coeso con fondamenta solide su cui le nuove generazioni potranno camminare con orgoglio. Se questo è il progetto noi ci siamo. E se qualcuno l'ha chiamata Agenda Draghi noi la chiamiamo Agenda Italia. Un metodo e una sostanza di governo orientati alla serietà alla concretezza e alla responsabilità che non devono essere accantonati. Perché ci sono numeri che non si possono e non si devono ignorare. Undici. Gli anni passati dall'ultima volta in cui il nostro Paese ha avuto un governo espressione di una maggioranza politica chiara uscita dalle urne. Oltre un decennio in cui sono nati quattro governi tecnici per superare momenti di crisi a cui la politica non sapeva dare risposte. Sedici. I milioni di persone che non hanno votato. Se fossero un partito avrebbero ottenuto il 36% e sarebbero il primo partito italiano. Coloro che hanno deciso di non decidere cosa fare del futuro di questa nazione. Sessantatré. La percentuale dei nostri concittadini che in un quartiere come Scampia in quel sud che ha sfiorato punte di astensione del 50% hanno votato in massa per mantenere il reddito di cittadinanza e lo hanno fatto perché convinti che senza sussidio per loro non ci sia futuro. Ci sono milioni di italiani che non trovano risposte ai bisogni fondamentali dell'esistenza. Disillusi non si riconoscono in nessuna rappresentanza. C'è bisogno che la politica torni a parlare loro con un linguaggio di verità. Con risposte reali a problemi reali non con facili e seducenti promesse. E la risposta non può che essere una il lavoro. E per tutti loro che deve proseguire senza esitazioni la stagione riformatrice aperta con il PNRR per chi non ha scelto per chi non ha più speranze per chi non crede sia possibile riscattarsi grazie al lavoro. Le nostre imprese faranno la propria parte. Sono e continueranno ad essere creativi di benessere punti di riferimento nei territori luoghi di crescita per chi ci lavora. Finché ce la faremo e oltre continueremo a lottare per non abbassare la serranda. Questo è il nostro impegno. Ma bisogna fare in fretta. Le energie di cittadini e di imprese si stanno esaurendo. Cominciamo ora quindi non domani. C'è una legge di bilancio da scrivere in tempi record. Una manovra strangolata dalla grande emergenza energetica. Questa è la priorità su cui investire le poche risorse disponibili. L'Europa è a un impasse. Ogni paese affronta la crisi energetica con risorse e misure proprie. La decisione sul price cap viene rimandata di settimana in settimana mentre le scelte di Mosca dispiegano i propri effetti ogni giorno. Il prezzo del gas ormai ai massimi storici peggiora le attese di crescita soprattutto dell'Eurozona e quindi delle prospettive della domanda mondiale. Eppure negli ultimi giorni finalmente pare essersi aperto uno spiraglio. La Germania sembra disponibile alla creazione di un nuovo fondo europeo sul modello di Shure basato sull'emissione di debito pubblico comune per sostenere le aziende e le famiglie di fronte agli shock energetici di cui tra l'altro si discute da mesi. Affinché l'Italia e le sue imprese superino questo inverno c'è bisogno di uno stanziamento fra i 40 e i 50 miliardi che fermi i prezzi dell'energia. Sarebbe fondamentale che questo stegno arrivasse dall'Europa come per il Covid. Contrariamente però l'Italia dovrà fare da sola e se non è possibile trovare queste risorse nei meandri dei mille miliardi di spesa pubblica annuale uno scostamento di bilancio potrebbe essere inevitabile per salvare i posti di lavoro e le aziende che li creano. Ma attenzione la sostenibilità del nostro già enorme debito pubblico è appesa a un filo non possiamo aumentarlo ulteriormente rischiando di ipotecare definitivamente il futuro per interventi che non siano di strettissima emergenza nazionale. Penso alle molte promesse elettorali fatte che se realizzate tutte supererebbero i 100 miliardi abbassamento dell'età pensionabile tasse piatte benefici temporanei e per pochi costi enormi per tutti. Dal nuovo governo ci aspettiamo autorevolezza competenza responsabilità per affrontare questa emergenza non facciamo come gli inglesi che si sono lanciati in iniziative scassa conti e procicliche per poi doversele rimangiare in fretta e furia mentre teniamo sotto controllo l'emergenza però guardiamo al futuro non dimentichiamoci del lavoro di chi produce e di chi ancora ha redditi troppo bassi per andare avanti perché l'Italia è ancora il paese in cui per ogni lavoratore che riceve 100 euro di aumento da spendere c'è un'azienda che deve pagarne più di 200 il paese con il cuneo fiscale tra i più elevati tra i paesi oxe dell'Unione Europea il 46,5% contro una media europea del 42 occorre tagliare il costo del lavoro concentrandosi sui redditi medio-bassi possiamo farlo riconfigurando la spesa pubblica perché questo non è il momento del mancette e degli assalti alla diligenza ma di restituire risorse a chi lavora e produce cari colleghi noi siamo i protagonisti di questa epoca straordinaria davanti a noi c'è una sfida enorme ricchissima di opportunità l'Europa si è prefissato l'obiettivo di raggiungere l'autonomia strategica nel 2040 in tutti i settori trainanti le due transizioni digitale e verde richiederanno l'adeguamento di politiche economiche industriali commerciali e regolamentarie perché sia singolarmente che attraverso la loro interazione avranno importante conseguenze nel futuro cogliamo questa opportunità facciamolo insieme e adesso partiamo dalla transizione verde l'Italia è al primo posto in Europa per gli indicatori più importanti dell'economia circolare la nostra industria avvia il riciclo oltre il 79% dei rifiuti speciali prodotti il doppio della media europea e il 73% di quelli da imballaggio raggiungendo con 9 anni di anticipo l'obiettivo europeo del 70% al 2030 industria che ha dimostrato una incredibile capacità di adattamento e innovazione nella giusta direzione quella della sostenibilità ma ciò che si può fare come industria non si può fare da soli è necessario che il governo attraverso il PNRR continui con determinazione sulla strada aperta dalle imprese investimenti infrastrutture e rimozione degli ostacoli amministrativi occorrono politiche industriali per rafforzare le filiere produttive e crearne di nuove filiere resilienti innovative in grado di progredire e trasformarsi in tempi tali da assicurare non solo la sostenibilità ambientale ma anche quella sociale ed economica occorre una visione oggettiva del percorso di transizione gli obiettivi di decarbonizzazione ed economia circolare possono essere aggiunti solo puntando su tutte le leve tecnologiche ci aspettiamo quindi un cambio di approccio e il superamento di ideologie estremismi ipocrisie perché il rischio forte e concreto è quello di aver fissato a livello europeo obiettivi irrealistici per cui gli stati le imprese e le famiglie non sono pronti sia in termini economici che tecnologici e di competenze ottenendo così esattamente il risultato opposto a quanto auspicato una desertificazione industriale e una forte perdita di posti di lavoro e questo non possiamo permettercelo così come non possiamo più ignorare la posizione di svantaggio tecnologico digitale da cui partono sia l'Italia che l'Europa restando dietro a Stati Uniti e Cina nello sviluppo digitale noi ci vediamo una grande opportunità per la nascita di nuove aziende per l'aggiornamento delle competenze per la creazione di nuovi posti di lavoro ci vediamo insomma il futuro della manifattura per questo chiediamo di rafforzare transizione 4.0 perché dobbiamo scegliere se essere protagonisti delle rivoluzioni tecnologiche o acquirenti di tecnologie altrui investiamo nelle tecnologie abilitanti chiave in stretta collaborazione pubblico privato investiamo in ricerca sviluppo innovazione in modo costante e consistente per trasformarle in prodotti processi e servizi innovativi solo così potremo raggiungere l'autonomia strategica nei settori critici impariamo insomma la lezione della guerra ma impariamola bene e apriamo un nuovo capitolo anche per l'energia dobbiamo centrare tre obiettivi fondamentali primo evitare una nuova trappola della dipendenza secondo allungare i tempi del fit for 55 e far passare il principio di neutralità tecnologica terzo accelerare le procedure per la costruzione o l'esercizio di impianti per fonti rinnovabili termovalorizzatori e regassificatori il tutto senza restare ostaggio dell'ennesima sindrome NIMBY ricordiamoci che il gas è la fonte energetica utilizzata dai settori campione di economia circolare che interi distretti rischiano di essere buttati fuori dal mercato Varese Parma Torino Sassuolo Frosinone Gragnano potrebbero essere cancellati dalla geografia industriale del nostro paese che larghe fasce della popolazione diventano ogni giorno più vulnerabili all'impatto che la doppia transizione avrà in termini di costi di lavoro e accesso ai servizi pubblici digitali un valido aiuto arriverà dagli investimenti in energie alternative oggi secondo i dati GSE si può produrre energia solare a 50 megawattora mentre il gas lo stiamo pagando 170 circa 13 volte il prezzo medio del 2019 l'energia 275 euro per megawattora l'idrogeno verde può diventare uno dei vettori energetici di riferimento per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea se ne parla ancora troppo poco nonostante anche in Italia siano prendendo corpo nuove iniziative come i poli dell'idrogeno in Piemonte Friuli Umbria Basilicata e Puglia dobbiamo allargare e rendere più competitivo il nostro mix energetico anche investendo sulla ricerca per il nucleare di ultima generazione e a partire dal mezzogiorno che potrebbe diventare la cassaforte energetica nazionale e un hub di primaria importanza a livello europeo per le sue caratteristiche geografiche e climatiche le imprese insomma stanno facendo il massimo in stretta collaborazione con il Mite Confindustria e le sue aziende hanno approntato un piano di risparmi energetici volontari dando un importante contributo al Paese benché si parli ancora di quarta rivoluzione industriale noi però siamo convinti di essere già nella quinta quella che combina digitale e green e allora riprendiamo iper e super ammortamento e applichiamoli a delle tecnologie che possono aiutare le nostre imprese a trasformare le loro fonti di approvvigionamento a riciclare meglio ad essere più efficienti ma il discorso non vale solo per l'energia si estende a tutte le materie prime strategiche è utile quindi ricordare che l'Italia è la settima potenza manifatturiera mondiale e la seconda in Europa il suo posto nel mondo dal G7 agli altri consensi internazionali se lo è guadagnato grazie all'industria e ai suoi lavoratori alla ricchezza economica che hanno generato se la dovesse perdere contestualmente perderebbe anche il posto ai tavoli che contano che non sono club in cui si entra per diritto l'Italia è un paese trasformatore quindi garantire l'approvvigionamento di materie prime è una questione di sicurezza nazionale implementare nuove politiche commerciali italiane ed europee è una questione di sicurezza nazionale diversificare l'acquisizione per lo sviluppo di tecnologie per l'industria della difesa è una questione di sicurezza nazionale chiaro come il sole ma tutto questo costa si stima che la doppia transizione potrebbe richiedere circa 650 miliardi di investimenti entro il 2030 risorse inarrivabili per il privato se lasciato da solo ma sterili per il pubblico se gli stati non avranno la collaborazione delle imprese su cui farle camminare gli investimenti pubblici saranno quindi indispensabili per sostenere chi può cambiare e per proteggere chi non potrà farlo oltre che essere una leva fondamentale per gli investimenti privati insomma subiremo il cambiamento invece che cavalcarlo se non ci doteremo di una macchina pubblica moderna preparata efficace ed efficiente capace di spendere e investire senza sprechi guidata da un approccio globale strategico ai problemi che riguardano la pubblica amministrazione per questo chiediamo che mentre questo processo di modernizzazione si compie a tutti i livelli dello Stato le energie migliori della macchina pubblica siano concentrate sul PNRR per spendere bene e nei tempi concordati questo significa anche un monitoraggio serrato delle singole componenti del piano e l'attivazione senza ritardi dei poteri sostitutivi e quando fosse necessario un commissario al PNRR che si sostituisca agli enti che non decidono di 29,4 miliardi programmati nel 2022 per il momento ne sono stati spesi 11 che probabilmente diventeranno 15 entro la fine dell'anno non è davvero questo il momento di restare fermi o buttare via i soldi la Twin Transition cambierà anche profondamente i mercati del lavoro e delle competenze già ora è in atto una forte competizione fra paesi anche europei in ambito scientifico e tecnologico pensiamo solo ai vaccini contro il Covid l'Europa che è la nostra casa ma è anche un terreno in cui si svolge un gioco cooperativo e competitivo allo stesso tempo per giocarlo al meglio l'Italia deve uscire dalla posizione di bisogno che la rende debole e deve farlo da sola sarà impossibile competere e facilitare la mobilità del lavoro tra settori senza adattare i sistemi di istruzione e formazione a questa realtà tecnologica e socio-economica in violenta trasformazione per questo dobbiamo parlare di investimenti nella formazione e nelle competenze e non di spesa perché non si tratta solo di sviluppare e mantenere competenze e talenti in linea con le ambizioni strategiche dell'Italia e dell'Europa aumentare finalmente la produttività o garantire la partecipazione delle imprese italiane nelle catene globali del valore si tratta anche di garantire a tutti una nuova cittadinanza attiva e consapevole senza quei divide che escludono ampie fasce delle popolazioni dalla fruizione di diritti e di opportunità si tratta di dare strumenti soprattutto ai giovani per potersi costruire un futuro e in virtù di questo lasciatemi dire non è possibile che nel 2022 gli studenti fuori sede non possano votare dove studiano è più facile votare da Bogotà nella circoscrizione esteri che da Bologna dove studiano tanti ragazzi le tecnologie per il voto ci sono usiamole stiamo vivendo una stagione della vita tanto entusiasmante quanto spaventosa scegliamo se far preparare la paura o l'entusiasmo e ricordiamoci chi siamo e dove siamo le due transizioni infatti hanno un'intrinseca natura geopolitica e la loro attuazione potrebbe fuggere da volano per un nuovo ruolo italiano nel mondo un ruolo irrecuperabile se continuerà il nostro paese a dimenticarsi che ogni nazione dalla più grande e potente alla più piccola e sperduta non è composta da altro che persone e che sono queste e solo queste che ne possono determinare il successo eppure in Italia la demografia non è un tema centrale non dico del dibattito pubblico che è già grave ma delle politiche pubbliche che è disastroso l'istat ha lanciato un'allarme forte e inequivocabile se il crollo delle nascite non verrà arrestato nel 2050 l'Italia perderà 5 milioni di abitanti di cui due giovani fra 30 anni solo poco più di una persona su due sarà in età da lavoro e dovrà provvedere allo stesso tempo alla cura e alla formazione dei bambini e dei ragazzi e alla produzione di risorse sufficienti per l'accudimento degli anziani una popolazione che invecchia alla quale dovremmo dare risposte innovative non solo economiche ma relative alla nostra struttura sociale questo quadro da solo dovrebbe bastare a far tremare i polsi e invece non succede niente se ne parla poco si agisce ancora meno le cause del declino demografico sono diverse tutte note profonde disuguaglianze sociali difficoltà economiche una mentalità patriarcale ancora ampiamente diffusa è un carico di oneri domestici e di cura di bambini anziani e disabili quasi completamente caricato sulle spalle delle famiglie e all'interno delle famiglie sulle donne cause note dicevamo eppure oltre che promesse cicliche di costruire nuovi asili nido è un assegno unico che non distingue fra condizioni lavorative e reddito dei genitori è stato fatto poco il family act va certamente rafforzato ma investendo con forza nelle famiglie a basso e medio reddito occorre studiare un modello italiano che partendo dai punti di forza e debolezza della nostra società introduca degli strumenti che servano a raggiungere un triplice scopo sostenere questa inversione della curva demografica aumentare la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro ed evitare l'abbandono della vita professionale da parte delle donne che già lavorano perché manca ancora nel 2022 in un paese avanzato come il nostro una efficace e diffusa rete di servizi che permettano davvero di conciliare la vita familiare e lavorativa che sostengano nella cura degli anziani e dei disabili che permettano pienamente alle donne di dare il loro contributo al progresso e al benessere del paese pensate nel mezzogiorno lavora solo una donna su tre l'unico modo quindi nell'immediato per contestare il decrimo demografico è quello di accrescere la partecipazione del lavoro del donna in molte economie avanzate c'è una sostanziale parità nel tasso di occupazione maschile e femminile da noi invece la distanza è di circa 18 punti percentuali questo gap potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo rispetto agli altri paesi se aumentasse il tasso di occupazione femminile che nel 2021 era del 49,4% e se lo si portasse ai livelli di quello maschile 67,1% il PIL italiano aumenterebbe del 12,4% far accedere a 3,3 milioni di donne al mercato del lavoro deve diventare un obiettivo da perseguire con tutti i mezzi possibili e non una mera dichiarazione di intenti non tutte le famiglie infatti hanno bisogno di sostegno economico diretto ma tutte ne hanno di conciliare famiglie e lavoro per questo occorre un mix di misure che incentivino modelli alternativi di accudimento senza contare che moltissimi italiani sono sprovvisti delle tutele alla genitorialità previste per i dipendenti sotto i contratti collettivi nazionali attendere lo Stato dovrà trovare delle formule adeguate per sostenere in maniera condivisa e responsabile i costi così che le tutele vengano estese in modo universale a tutti i genitori nelle fasce di reddito medio-basso è ora di superare anche le distinzioni fra uomo e donna nell'accesso alle tutele per una parità finalmente sostanziale ma parliamoci chiaro finché i bambini continueranno ad essere trattati come un problema privato invece che come una ricchezza collettiva non usciremo mai da questa situazione dall'inverno demografico si scivola nell'inverno sociale cosa significa in Italia la povertà assoluta è ai massimi storici con 5,6 milioni di persone in povertà assoluta la protezione offerta dal reddito di cittadinanza da sola non basta è necessaria una profonda riforma delle politiche attive del reddito di cittadinanza come strumento di rimissione nel mercato del lavoro è cruciale che chi può lavori perché il dramma delle persone che escono dal mercato del lavoro è che poi non riescono a rientrarvi ed è questo ed è qui che dobbiamo intervenire ma è altrettanto fondamentale risalire alla radice del problema per spessare questo circolo virtuoso in Italia un giovane su 4 non studia non lavora non è inserito in percorsi formativi la percentuale più alta di tutta Europa quasi il 10% degli studenti con un diploma superiore non ha le competenze minime necessarie per accedere al mondo del lavoro e per accedere all'università e come sempre a pagare sono i bambini e i ragazzi che provengono dalle famiglie in situazioni di svantaggio socio-economico che non trovano strumenti per migliorare la propria condizione lì dove dovrebbero nella scuola e così l'ascensore sociale resta bloccato condannando ogni bambino che nasce a vivere una fotocopia della vita dei propri genitori senza speranza senza riscatto un paradosso inaccettabile se si guarda al disallineamento fra domanda e offerta di lavoro per cui le imprese cercano migliaia di profili che non riescono a trovare lo somma dei due inverni che attanagliano il nostro paese comporterà squilibri strutturali di medio e lungo periodo di preoccupante gravità senza giovani l'Italia vivrà un declino culturale di competenze una minore propensione all'innovazione e un'incapacità di difendersi e di contare sullo scacchiere internazionale nel giro di soli tre decenni l'Italia rischia seriamente di trovarsi senza lavoratori senza entrate fiscali e con un sistema pensionistico e sanitario alle corde già nel corso degli ultimi anni è stato chiesto più volte alle imprese di compensare il welfare dedicato ai giovani e alle famiglie e alle imprese che lo Stato non riesce più a garantire perché la spesa pubblica è concentrata principalmente sugli strati anziani della popolazione le imprese non si sono tirate indietro hanno arricchito i contratti collettivi nazionali e offerto sempre maggiori tutele incentivi e sostegni aglioni di cura di figli e familiari dei propri dipendenti eppure le aziende anche le più grandi solide e prospere non possono sostituirsi all'istituzione esternalizzando sul privato questa fondamentale funzione di welfare lo Stato sta creando donne e famiglie di serie A ovvero i dipendenti con contratti collettivi come quelli siglati da Confindustria con i minimi garantiti tutele e welfare e i cittadini di serie B ovvero tutti gli altri lasciati soli non è accettabile e non possono essere le aziende a colmare questo vuoto di diritti sono fermi i progetti esecutivi del PNRR da 4,7 miliardi per gli asili ritardi attuativi nei decreti in efficienza amministrativa sembrano essere una costante anche quando le risorse ci sono e vengono stanziate la scommessa è grande da tanti punti di vista di civiltà giuridica di uguaglianza di diritti di cittadinanza alla luce di questo sarebbe ora di guardare anche i fenomeni migratori con realismo efficacia e senza paura grandi nazioni vi hanno costruito la propria fortuna il nostro obiettivo deve essere quello di attirare talenti e integrare efficientemente coloro che arrivano e che intendono restare che non sono affatto la maggioranza e per coloro che restano e che contribuiscono come ogni altro cittadino al progresso del paese non negare una piena cittadinanza che è per ogni donna e uomo baricentro di appartenenza diritti e doveri come ha ricordato Papa Francesco nell'udienza all'assemblea pubblica di Confindustria il miglior modo per integrare è di nuovo il lavoro lavoro che è alla base del patto sociale di cui gli immigrati devono far parte fondato sulla dignità sulla comunità e sulla collaborazione fra imprese e territori cari colleghi so di aver dipinto in alcuni passaggi di questo discorso un quadro a tinte fosche non l'ho fatto a cuor leggero ciò che dobbiamo fare è agire con lucidità concentrazione e lungimiranza perché abbiamo le energie e le risorse e le capacità per farcela perché è giunto il momento che i giovani e le donne riprendano in mano il proprio destino svincolandosi da chi vuole sussidiarli solo per tenerli fermi lavoro competenze innovazione sono gli strumenti primari per costruire il futuro e su questo che dobbiamo chiedere conto a chi pro tempore avrà l'onore di guidare questa grande nazione perché l'industria italiana non può morire per i partiti siamo in uno di quei momenti in cui una nazione scrive nuove pagine della sua storia collettiva la realtà la forza della trasformazione in atto determineranno senza sconti se abbiamo vissuto una stagione di buon governo o un nuovo duro inverno una responsabilità condivisa da cui nessuno può sentirsi esonerato maggioranza opposizione mondo produttivo e del lavoro società civile noi lavoreremo e dialogheremo lealmente con le istituzioni come abbiamo sempre fatto e alzeremo la voce di fronte a iniziative contro industria e lavoro noi non ci faremo vincere dallo scoramento perché abbiamo davanti tutta una vita da vivere perché ce l'hanno i nostri figli oggi i bambini perché è un atteggiamento che non ci appartiene perché sosteniamo sulle spalle la responsabilità di una generazione di accompagnare l'Italia verso trasformazioni fondamentali di cambiare epoca abbiamo le energie per farlo siamo coraggiosi l'Italia lo sarà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti